diciamo, quello che desideri per sviluppare, diciamo, la capacità di attrarre, per sviluppare la capacità di sedurre, che è un punto secondo me molto importante, un punto fondamentale perché sedurre, riuscire a conquistare, riuscire a far innamorare, credo che sia molto importante dal nostro punto di vista perché se riusciamo a sedurre, se riusciamo a conquistare, riusciamo anche, diciamo, a sviluppare una situazione di armonia verso noi stessi, quindi la seduzione non è soltanto la capacità di sedurre, la capacità di conquistare, tanto salutiamo anche Tug, salutiamo Gina Decazzan, Roxy, Grinettina, Manuela, quindi stavo dicendo, la capacità di sedurre, la Nespo, la capacità di sedurre ci serve perché soprattutto impariamo a conquistare, a sedurre noi stessi, a far innamorare noi stessi, quindi io credo che questa sia una delle valenze principali della capacità di sedurre, quella di essere in grado di conquistare fondamentalmente noi stessi perché sviluppiamo quella sicurezza, quella, è un po' come da ragazzi le arti marziali, se sapete fare le arti marziali almeno per i maschi da ragazzi, sapete che i maschi, il pubblico maschile, i ragazzi diciamo hanno la, al contrario delle femmine diciamo quando nella fase dell'adolescenza cercano di misurare la loro forza, la loro, è proprio una caratteristica adolescenziale fondamentalmente di rapportarsi con gli altri attraverso il contatto fisico, allora ad esempio praticare arti marziali, ah ecco vedo Michele Pippoli, quindi ti annuncio Michele Pippoli che abbiamo, se ti va bene, programmato la registrazione sabato alle 15 con la carampagnocca e con sissi, quindi scrivi lì se ti va bene, Pippoli, sabato alle 15, scrivi se ti va bene, Pippoli, allora, allora, quindi dobbiamo imparare quindi questa cosa che è un punto, è un punto fondamentale, no? Quindi noi dobbiamo, noi dobbiamo imparare diciamo questo, no? Imparare l'arte della seduzione per poterci, tra virgolette, difendere, tra virgolette, per poterci difendere dalle persone che in qualche modo ci possono, diciamo, ci possono far innamorare e che sono le persone sbagliate. Quindi inizia, diciamo, quindi questo è un punto molto importante, no? Quindi gli esseri umani sono di fatto creature semplici, sono creature che sono attratti dall'imprevedibile e quindi noi se vogliamo farci inseguire dobbiamo imparare a mettere in atto alcune strategie di seduzione molto importanti. Quindi come si sviluppano, no? Le strategie di seduzione, se vogliamo far innamorare, se vogliamo conquistare le persone? Beh, tutto sommato è abbastanza semplice. Intanto, come dire, dobbiamo entrare in contatto con questa persona, no? Quando entrate in contatto con una persona che vi interessa, con una persona nuova, dovete sviluppare un atteggiamento interiore di curiosità, non di bisogno. Cioè la curiosità qual è? Io conosco, che ne so, Francesca, tu conosci Mario, la cosa che mi interessa è essere curioso, di capire qual è il mondo di Francesca, qual è il mondo di Mario, qual è la mappa del mondo di Francesca, qual è la mappa del mondo di Mario, perché se io capisco qual è la loro mappa del mondo avrò grandi possibilità eventualmente di conquistarli, eventualmente di sedurli, ma non è che devo pensare, devo sedurli, devo conquistare a tutti i costi. No, 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 questo è l'atteggiamento sbagliato. Io ti voglio conoscere per capire se eventualmente posso darti la possibilità di interagire con me. Questo è fondamentale, questo mindset credo che sia la base, sia proprio il fondamento, la base diciamo per essere una persona vincente, la base per essere una persona che può ottenere dei risultati e la base per essere una persona che sa davvero quello che vuole. Questo direi che è un punto molto importante, è un punto fondamentale direi, cioè diciamo così che questo primo atteggiamento io ti conosco, allora come faccio però a conoscerti? Beh intanto ovviamente non è semplicissimo conoscere una persona, però noi possiamo sviluppare delle capacità di osservazione per guardare diciamo dentro l'anima di quella persona, quindi bisogna tenere presente che ci sono alcune cose che sono molto importanti, che costituiscono la mappa del mondo, che è un po' il fondamento della PNL, uno dei fondamenti della PNL è che la mappa non è il territorio. Intanto vi ricordo di mettere un like, vedo soltanto 6 like, mettere un like non costa niente, a voi è gratis e serve a far girare il video su YouTube, quindi uscite, cioè uscite, schiacciate sul tastino col pollicino in su, così darete la possibilità all'algoritmo di YouTube di far girare il video, quindi date un sostegno ed è completamente gratuito, non costa assolutamente niente, non costa assolutamente niente. E un altro, poi se invece volete dare un sostegno attivo al canale, ovviamente non è obbligatorio, potete fare una donazione al canale, oppure potete abbonarvi, tra l'altro con un abbonamento base appunto potete seguire i miei seminari qua sul canale a lunedì o giovedì e dove ad esempio parlo di PNL, dove approfondisco bene la tematica della PNL a livello di Master Practitioner, quindi la pratica del Master, quindi potete, appena iniziato, quindi domani ci sarà, per cui chi volesse può fare ancora l'abbonamento base e domani alle 18.45, ma comunque resta poi in community, seguire il seminario. E allora dobbiamo iniziare a renderci conto, diciamo, che conoscere una persona non bisogna né essere sfacciati, né essere, bisogna semplicemente avere la curiosità, no? Quando tu vuoi conoscere una persona è molto semplice, certo serve la sicurezza in te stesso, ma l'approccio ad esempio anche per un maschio può essere molto, molto semplice, molto più semplice di quando tu pensi, vedi una persona che ti interessa e gli dici ciao, guarda, t'ho visto, mi hai incuriosito, mi farebbe piacere conoscerti, piacere, mi chiamo Massimo, gli dai la mano, qui dare la mano è ad esempio interessante perché se tu gli allunghi la mano, questo è come dire, è uno schema, no? È uno schema. Prova ad allungare la mano a una persona, istintivamente te la stringerà. Ovviamente questo è un vantaggio degli uomini, no? Che fanno, possono fare un primo approccio, però anche le donne possono tranquillamente stringere stringere la mano a un uomo. Ecco, dalla stretta di mano tu puoi ricavare un'infinità di cose, ci sono un'infinità di informazioni che puoi cogliere quando una persona ti stringe la mano. Forse non lo sapevi, ma io dalla stretta di mano posso capire ad esempio, posso capire ad esempio se quella persona ha vissuto un conflitto con il padre, se quella persona ha vissuto un conflitto con la madre, se ha vissuto un conflitto in modi diversi con entrambi i genitori, quindi sviluppato un egocentrismo, se è una persona che ama dominare o se è una persona che ama essere dominata, se è una persona che si aggancia su un desiderio molto forte o se si aggancia su un desiderio più basso, cioè devo farla desiderare ma di meno. queste cinque formazioni tieni presente che io posso ricavarle semplicemente da una stretta di mano e tenete presente, dice ma che mi frega di sapere se ha avuto un conflitto col padre piuttosto che con la madre? Beh, è molto importante saperlo perché io avrò una prevedibilità dei suoi comportamenti futuri e riuscirò a capire come si comporterà in futuro, come si comporterà in futuro, riuscirò a capirlo da una semplice stretta di mano, sembra strano ma io dalla stretta di mano capisco e se capisco che ho vissuto una conflittualità prevalentemente con la madre, beh, saperò ad esempio che è una persona che tende ad agganciarsi a persone problematiche, quindi dovrò presentarle qualche problema, dovrò presentarle qualche problema perché se non le do qualche problema non si aggancia, quindi tra l'altro questa tipologia di persona ad esempio potrei dirle eh, ho una relazione che mi sta facendo soffrire, beh, per le persone che hanno vissuto una conflittualità forte con la madre, se tu le dici eh, ho una relazione che mi sta facendo soffrire, beh, questo l'aggancerà totalmente, salutiamo Pink, questo l'aggancerà totalmente, l'aggancerà in modo pazzesco, quindi pensa te, tu stringi la mano a una persona e se sai cosa fare, dalla stretta di mano capisci tantissime cose perché in questo caso io ti metto subito un vincolo, ti dirò, eh, mi fa anche un vincolo di natura sentimentale affettiva, no? Perché tutte voi carampane, malgascione, quelle che si innamorano di persone problematiche di persone sposate, di persone, eh, sono persone che vanno a cercarsi le situazioni complicate, sono persone che vanno a cercarsi le situazioni difficili e si agganciano sulle situazioni complicate, si agganciano sulle situazioni difficili, perché in questo caso, e poi c'è tutto un discorso delle triadi che tra l'altro che ha seguito i miei seminari, conosce, salutiamo anche Andrea Giovani, che ha seguito i miei seminari conosce bene, no? L'esigenza delle triadi, ma ti fai vedere, se sei un maschio, come il papà buono da sottrarre alle grinfie della mamma cattiva. E quelle persone che hanno questa sindrome della croce rossina Diamo benvenuto Andrea Giovani, queste persone che hanno questa sindrome della croce rossina se tu ti presenti da maschio, oppure se sei femmina, ti presenti come, diciamo, appunto la mamma buona da sottrarre alle grinfie del papà cattivo. E un uomo si innamora, si coinvolge, si aggancia fortemente E tutto io lo capisco da una stretta di mano. D'altra parte, dalla stretta di mano, potrei capire se c'è una persona che vuole essere dominata. E allora, se io capisco che questa persona vuole inconsciamente, ovviamente, non consapevolmente, essere dominata, le darò degli ordini. Eh, certo che facciamo così, ci vediamo domani, non tollero, non tollero un rifiuto. Eh, pensa a te, la metti in crisi. Una persona che vuole essere dominata avrà difficoltà, avrà difficoltà a dirti di no se tu le dici, guarda, ci vediamo domani, non tollero un rifiuto. Con un tono perentorio. Sembra strano, ma tutte le persone che amano essere dominate, beh, ti vedono subito come l'essere dominante, no? Ti vedono subito come l'essere dominante e si agganciano come le mosche al miele. Come le mosche al miele. Si agganciano come le mosche al miele. E ti dirò di più. Potrebbero agganciarsi, potrebbero agganciarsi come, no le mosche al miele, come le farfalle. Come, non sappiamo, perché devo fare i teratarot, non so se metterci le mosche le merde, oppure le farfalle e i fiori. Ma, oppure farfalle e merde e fiori e... Quindi questa tipologia di persone noi le agganciamo fortemente. Abbiamo un fortissimo aggancio con queste persone, mettendomi in questo modo, no? E poi, quindi tutto questo io soltanto ho stretto la mano, ci ho messo tre secondi fondamentalmente, no? Oppure, diciamo, dalla stretta di mano posso sapere, dalla stretta di mano posso sapere se quella persona è egocentrica. E allora se io so che quella persona è egocentrica, so che non c'è... le persone egocentriche vi svelo un segreto fantastico, però tanto se poi non fate il seminario non riuscirete a capire esattamente come. Quindi vi esorto a fare l'abbonamento base per partecipare ai miei seminari e scoprire questi grandi segreti che vi serviranno, vi saranno molto utili nella seduzione. Scoprirete questi grandi... salutiamo anche Andrea. Poi non capisco quel che dico non mi puoi salutare. Vabbè, io non... questi... questi grandi segreti, no? Nella seduzione che sono delle cose molto importanti perché adesso vi svelerò... vi svelerò un trucco fondamentalmente che è un trucco secondo me molto importante quando si ha a che fare, quando si ha a che fare con queste persone che sono egocentriche perché l'egocentrismo è un punto molto importante. Voi dovete sapere che l'egocentrismo è un punto fondamentale perché queste persone egocentriche vogliono sempre qualcosa di diverso, vogliono sempre qualcosa di diverso da quello che hanno. Cioè, ecco, questo è interessante. Se io so che tu sei egocentrica, so che, diciamo, cerchi un uomo istituzionale per renderlo trasgressivo oppure cerchi uno trasgressivo per renderlo istituzionale. Oppure un uomo egocentrico cerca la donna santa per trasformarla in puttana oppure cerca la donna puttana per trasformarla in santa. Sembra strano ma è così. Sembra strano ma è così. Cercano la puttana per trasformarla in santa o la santa per trasformarla in puttana. E questo è un punto molto importante. Questo è un punto fondamentale, è un punto veramente importante, è un punto veramente fondamentale perché in questo modo io se capisco che ho a che fare con una persona egocentrica, se io capisco che ho a che fare con una persona egocentrica, so che dovrò presentarmi in un modo e poi non dargli l'illusione della trasformazione in qualche altro modo, ma gli darò soltanto l'illusione. Questo è il concetto di fondo. Gli darò soltanto l'illusione perché in questo modo mi presento come santa e poi gli darò l'illusione perché nel momento in cui tu ti presenti come santa lui si aggancia, cercherà di renderti puttana, ma se tu ti presenti, cioè tu diventi subito puttana e cosa vuol dire diventare subito puttana? Ad esempio gliela dai subito. Se gliela dai subito, lui ha finito il suo compito perché gli uomini egocentrici cercano la santa per trasformare in puttana, oppure cercano la puttana per trasformare in santa. Quindi questo a seconda della tipologia di egocentrico, perché abbiamo due tipologie di egocentrico, ma per capire bene queste due tipologie di egocentriche, di personalità egocentriche, devi fare l'abbonamento base e con l'abbonamento base potrai partecipare ai miei seminari e quindi scoprirai queste due tipologie egocentriche, invece ce ne sono due, nel caso degli uomini una delle due tipologie cerca la santa e la vuole trasformare in puttana e l'altra tipologia cerca la puttana e la vuole trasformare in santa. E però nel momento in cui avviene la trasformazione si sgancia, cioè se quello che, facciamo un esempio, se quello che si aggancia sulla santa e tu ti presenti come santa, lui si aggancia, però poi cercherà di trasformarti in puttana. In puttana cosa significa? Beh, cercherà di portarti a letto subito, ad esempio, e nel momento in cui tu ci vai a letto subito lui si sgancia, non gli interessi più, perché ha completato la trasformazione, eri santa, ti ha fatto diventare puttana, non gli interessi più, andrà a cercarsi un'altra santa da farla diventare puttana. Se invece è la tipologia inversa, quello che si aggancia sulla puttana per farla diventare santa, beh, si aggancerà sulla ballerina di lap dance del night, no? Sono quei coglioni, no? Sono quei coglioni che si innamorano delle ballerine di lap dance del night e poi appena la ballerina di lap dance smetterà di essere zoccola, di essere mignotta, ma gli dirà io sono fedele a te, lui si sgancerà e andrà a cercarsi un'altra ballerina di lap dance perché il suo compito l'ha finito. Quindi queste sono cose che sono fondamentali nella seduzione, devi imparare. Nel frattempo vedo 168 persone collegate e solo 21 like, quindi se vi fa piacere, non è un obbligo, ma è gratis, mettete un like che serve a far girare il video su YouTube, serve a dare, diciamo, spazio all'algoritmo su YouTube, è gratis, non costa niente, non vi costa niente e se il video vi piace vi fa un favore. Poi chi volesse fare una donazione al canale può farla cliccando sul tastino col dollarino per dare un sostegno al canale e chi volesse seguire i miei seminari, basta che fa l'abbonamento base, basta che fa l'abbonamento base, potrà seguire i miei seminari a lunedì, a giovedì, che secondo me sono seminari importanti che sono seminari importanti che ti fanno capire, che ti fanno capire quali sono le persone che davanti ti permettono di comprendere. Salutiamo anche Giorgio Cameli, il grande Giorgio Cameli, che non l'avevo visto, scusa ma c'è un po' di gente nella chat, quindi tra l'altro se Giorgio Cameli sta facendo dei seminari interessanti sul suo canale, se metti il link del tuo canale invito tutte le persone a iscriversi al canale di Giorgio, che è un canale molto interessante, quindi iscrivetevi al canale di Giorgio Cameli, salutiamo anche Deborah. Quindi, e quindi io dalla stretta di mano semplicemente capisco tutte queste cose, ma non soltanto, dalla stretta di mano, ecco lì il link del canale di Giorgio Cameli, iscrivetevi che ci sono anche dei seminari interessanti sul suo canale, sulla gestione delle sue emozioni. Dalla stretta di mano, semplicemente che potete fare in tre secondi, non ci va tanto, io posso capire anche se una persona devo farla desiderare tanto o devo farla desiderare poco, cioè io capisco quanto devo tendere, quanto devo tendere, quanto devo tendere l'elastico del desiderio. Allora, l'elastico del desiderio, che avevo da qualche parte, avevo da qualche parte l'elastico del desiderio, però potrebbe essere anche il titolo, una cosa interessante, una carta, potrebbe essere anche una carta, l'elastico del desiderio, qua non ce l'ho pensato, secondo voi potrebbe essere una carta utile, dei Tarataro, l'elastico del desiderio. Quanto va atteso l'elastico del desiderio? Adesso non trovo, ho perso l'elastico del desiderio. Vabbè, comunque, potete capire, diciamo, se una persona può allungare, diciamo così, l'elastico del desiderio, può tendere l'elastico del desiderio, può tendere l'elastico del desiderio, o non tendere l'elastico del desiderio. Quindi ci sono persone che devo tendere molto l'elastico del desiderio e lo capisco dalla stretta di mano. E come faccio a tendere questo elastico del desiderio? Vincolandogli il possesso. Vincolandogli il possesso. Cosa vuol dire vincolandogli il possesso? Vincolandogli il possesso cosa vuol dire? Vuol dire che se vincolo il possesso, non mi faccio, come dire, non mi rendo disponibile. Mi rendo poco disponibile. Cioè, mi rendo meno disponibile di quanto tu vorresti con una persona. Ovviamente, ecco, questo è un punto importante, devo farmi vedere come appetibile per rendermi poi poco disponibile. Farmi vedere come appetibile cosa vuol dire? Per farmi vedere come appetibile, qua mi sovvengono tutte le altre condizioni della PNL. E questo lo spiego nel seminario che faccio parlando di PNL. Beh, abbiamo tante cose importanti nel seminario di PNL, come ad esempio quelli che sono i metaprogrammi. Devo avere dei metaprogrammi simili. Quelli che sono i valori importanti. Quelli che sono i valori. Quelli che sono i valori. I valori sono importanti. I valori che cos'è? E quello che per me è importante. Quello che per me, diciamo, quello che per me è veramente importante. Ma anche le credenze. Che cosa credo vero? E che cosa credo falso? Quindi sono tutte cose, tutte situazioni molto importanti. Quindi se Giorgio Cameli, abbiamo il piacere di avere qua Giorgio Cameli, se ci mette il link del suo canale, vi invito a iscrivervi e di guardare il canale di Giorgio Cameli, che è un canale molto interessante, che parla di emozioni. Quindi ogni canale che parla di emozioni e ne parla come ne parla Giorgio Cameli, diciamo, che è una persona esperta, mi fa molto piacere. Quindi mettete il link, cioè iscrivetevi al canale di Giorgio Cameli. Quindi se metterai il link esorto tutti, perché darà un accrescimento anche a voi. Quindi, detto questo, ecco il link del canale di Giorgio. È gratis, iscrivetevi, è gratis, non costa niente. Quindi iscrivetevi. Come mettere like? È gratis, è gratis, non costa niente. Mettete like, fate girare il video. E se invece volete dare un sostegno al canale, perché vi piace, volete fare una donazione, cliccate sul tastino col dollarino. E se volete partecipare ai miei seminari, che secondo me sono interessanti, qualcuno che li segue qua può dirlo, se li trovi interessanti ovviamente, se non li trova, non lo dica, può fare l'abbonamento al canale base, e quindi, cioè, l'abbonamento base al canale, e quindi seguire i miei seminari. E stavo dicendo, quindi, tutto questo, io l'ho scoperto da una stretta di mano. Tutto questo, io l'ho scoperto da una stretta di mano. Non è che ci ho messo tanto a capire. Quindi, pensate quante cose che scopro nella seduzione da una stretta di mano. Scopro, se devo comportare, ecco, poi, da una stretta di mano, potrei capire che quella persona è una persona tartassante, una persona, potrei capire che è una croce rossina, potrei capire se cerca la puttana o la santa, e se vuol trasformare. Una donna, se io sono maschio, potrebbe cercare, diciamo, potrebbe cercare una persona che invece cerca il libertino, e lo vuole rendere fedele. Quante di voi si sono innamorate donne di un personaggio libertino, e hanno sperato di renderlo fedele. Quante persone hanno, quante di voi, ditelo se avete coraggio, vi siete innamorati di uomini trasgressivi, libertini, e avete sperato di renderli fedeli. E se per caso questi qua fossero diventati fedeli, non vi interesserebbero più, non vi sarebbero più interessati. Questo non vi rendete conto, perché tanto loro non diventeranno mai fedeli. Non diventeranno fedeli, e voi resterete appese alla speranza di renderli fedeli, ma invece vi riempiranno di corna, e più vi riempiranno di corna, più voi vi aggancerete, e più vi aggancerete, più vi riempiranno di corna, e più vi riempiranno di corna, più vi aggancerete. Insomma, sarete cornute alla grande, non l'avrete fatto innamorare, sarete scontente, vi lamenterete, e il bravo ragazzo, quello che sarebbe stato come l'arma dei carabinieri, nei secoli fedele, quello manco lo prendete in considerazione. Non lo prendete neanche in considerazione quello, quello fedele, perché voi cercate il trasgressivo, e volete renderlo fedele, perché siete egocentriche. E il vostro egocentrismo vi porta, diciamo, a voler trasformare le persone, ma se, e quindi, questo tipo di comunicazione, è importante conoscerla anche su se stessi, perché se tu la conosci su te stesso, su te stessa, eviti di agganciarti alle persone sbagliate, perché è la consapevolezza, che ti tira fuori, diciamo, dalla merda, è la consapevolezza, che ti tira fuori, da queste situazioni, perché se tu non ne sei consapevole, e i processi sono tutti subliminali, subliminali significa al di sotto della soglia di consapevolezza cosciente, se tutti i passaggi, se tutto è subliminale, tu subisci, subisci senza rendertene conto, è come, è come dire, piove, e tu, non è che ti sei resa conto prima, non hai visto il meteo, guarda, fa attenzione che sta arrivando, no, la pioggia, perché è come, praticamente, se tu non conosci il cinese, e stai in Cina, in un albergo, possono pure dirti, con l'altoparlante, possono pure dire alla televisione, fate attenzione, che sta arrivando un uragano, ma se tu non conosci sto cazzo di cinese, tu, e sarà un caso, se uscirai fuori, e rimarrai travolta dall'uragano, o se, o se resterai dentro per culo, e ti salverai dall'uragano, ma, non sarà una tua scelta, cioè, non sarai in grado, di esercitare il libero arbitro, perché sei ignorante, sei ignorante come una capra, da questo punto di vista, e invece, capire questi meccanismi, ti consente di esercitare il libero arbitro, cosa vuol dire, che ti consente di esercitare il libero arbitro, ti consente di dire, io conosco il cinese, capisco, quello mi dice, sta arrivando l'uragano, beh, poi sta a me decidere, se vivermi l'uragano, o se starmene nascosto in albergo, per dire salvandomi dall'uragano, è come nell'amore, io posso capire, che quella magari è la persona sbagliata, ma voglio darmi un'emozione, ma loro sono io che scelgo, questa è un'altra cosa interessante, come forma di autopenalizzazione, mi decido, deliberatamente, di darmi un'emozione, con una persona che so che è sbagliata, mi do un'emozione, mi do un'emozione, e una volta che mi sono dato l'emozione, me ne sbatto i coglioni, una volta che mi sono dato l'emozione, me ne sbatto le palle, per me è come dire, mi sgancio, perché il mio obiettivo, era semplicemente darmi un'emozione, non avevo altri obiettivi, solo darmi un'emozione, credo che sia abbastanza chiaro, no, il concetto, quindi è veramente fare un salto quantico, no, nella, in tutto questo, è veramente fare un grande salto quantico, passare dalla merda al risotto fondamentalmente, e quindi dipende da quanto io riesco a tendere l'elastico del desiderio, dipende da quanto io riesco a tendere l'elastico del desiderio, quanto io riesco a tendere l'elastico del desiderio, è quello che mi permette di capire, diciamo, quante emozioni mi devo dare, e tutto questo, io lo capisco, da una semplice stretta di mano, non è che mi serve tanto, basta una stretta di mano, per capire questo, ed è l'essenza della seduzione, l'essenza della capacità, è l'unico modo, quello di capire che è davanti, per farli innamorare, per coinvolgerlo, ovviamente poi ci sono tutte cose collaterali, e adesso ho fatto un esempio, della stretta di mano, ma ci sono molte più cose, ovviamente, da questo punto di vista, che noi possiamo utilizzare, ed è molto importante, comprendere, diciamo, tutte queste cose, no, che noi possiamo utilizzare, credo che sia veramente fondamentale, sia veramente importante, comprendere, imparare, no, quali sono tutte queste cose, che io posso capire, che io posso cogliere, perché mi daranno, diciamo, veramente, una grande possibilità, imparare è veramente un punto fondamentale, no, quindi, e questo è un punto fondamentale, un punto importante, bene, detto questo, io credo che, io credo che noi possiamo, imparare, diciamo, dal linguaggio, salutiamo anche Christian, Christian Lasorsa, ciao Christian, forse non ho visto, perché per un po', non ho visto la chat, per un po', non ho visto la chat, perché era sparita la chat, salutiamo anche Margot, quindi, queste sono un po', tutte le strategie, ripeto, ho dato semplicemente un assaggio, per far capire, quanto è potente, se vogliamo il tutto, e quanto, noi possiamo, diciamo, sviluppare, no, tutta questa situazione, per raggiungere, dei grandi risultati, bene, detto questo, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così, riceverete la notifica, di noi video, e mi raccomando, se volete, potete fare una donazione al canale, se volete, potete fare una donazione al canale, e potete, insomma, dare un sostegno, potete dare un sostegno al canale, e, detto questo, vi ricordo gli appuntamenti,